Ciao Vic, Fede, ciao Ho visto che la proposta è La Notte e le Morti Viventi Sì, vabbè, infatti ho detto, sai cosa? Infatti, di solito faccio l'introduzione per La Notte e le Morti Viventi Io lascerei spazio a Fede, dato che anche l'intervistrata con Romero Siamo solo noi tre? Sì, ma Davide non c'è Davide non c'è Ok, allora si va a noi E che devo introdurre? La Notte e le Morti Viventi, il 1968 Esorcio di Giorgio R. Romero Uno dei registi più importanti di tutti i tempi Uno dei migliori 30 registi al mondo Che crea lo zombie, la figura dello zombie moderno Che corra o non corra, strappi o non strappi Comunque sono tutti rubati da Romero Compreso con la merda di Army of the Dead e di Snyder Comunque vorrebbe fare Romero Tutti vorrebbero fare Romero E il 1968, bianco e nero Anche per esigenze prima di tutto produttive Perché il film è costato pochi migliaia di dollari Cioè, se è arrivato a 200-300 mila dollari È un miracolo, è un film a bassissimo costo Fatto con gli amici dell'esame, insomma Dell'università Girato in Pennsylvania, in casa di un amico Anche lì attori sconosciuti È la trama di questo gruppo di persone Chi più, per vari motivi Un ragazzo nero sui 30 anni Una coppia di ragazzini redneck Una ragazza che era arrivata col fratello In questo cimitero dove avviene il primo zombie Che va fuori di testa E una famigliola classica borghese Repubblicana e bianca americana Si ritrovano dentro questa casa Assiliati da questi zombie Da questi esseri mortiventi Che tornano fuori dalle tombe E quindi l'unico modo per ucciderli Chiaramente è spararli in testa La trama è tutta qui È una sopravvivenza all'interno Infatti il film è fortemente ispirato A Io sono leggenda di Richard Mateson Sia per ambientazione che per idea Appunto E il nostro Va detto che non aveva ambientato gli zombie Perché non li chiama nemmeno Sono gaul In lingua originale Quindi non sono nemmeno zombie Ha potuto tenere Dead Però se ci avete fatto caso Living Dead Poi è diventato altro Perché L'aveva fatto insieme A Ubannon Il pensiero Poi all'inizio Con il produttore Che era anche quello Che l'aveva scritto con lui Che si è tenuto Living Dead Infatti Lui ha potuto fare Night of the Living Dead Poi in realtà Con i successivi Living Dead è scomparso È rimasta Dead Down of the Dead Day of the Dead Land of the Dead Perché Living Dead Ci aveva preso Quell'altro che l'ha dato A Grande dell'Omanno Che piace Il reattore Intorno ai morti viventi Il reattore Dopo di Living Dead Comunque Questo film lì è importantissimo Perché è stato il film Che negli anni 60 Insieme a Rosemary's Baby Allora del Lupo Ha dato il via A un altro tipo di modo Di fare il cinema indipendente Prima di tutto Cioè nel senso Che è un film Che ha costato 300 mila E ne ha incassati 100 milioni È uno dei film più importanti Anche in quel senso Anche se mi interessa poco Cioè è costato È uno di quelli incassi Insieme a quella profonda Che ha costato talmente poco Che quello che ha incassato dopo È diventato uno dei più grandi Centinaia di migliaia di euro Centinaia di milioni Cioè costato niente 100 mila euro 100 mila dollari Sì Per incassarne poi I 100 milioni Cioè quindi Una cosa gigantesca Che Romero comunque Ha ripudiato Nel senso Che le offerte Che gli sono arrivate subito dopo Dalle grandi case Lui se ne è fregato il cazzo Ha continuato a fare sempre Il suo cinema Senza mai Legarsi a una Casa di produzione Grosso di Woody Questo film lì è famosissimo Prima di tutto Perché inventa lo zombie E poi mette delle scene Che inventano anche il gore Non c'è quel senso Perché comunque Il bianconero è stato scelto Per risparmio E soprattutto Perché avevano paura Del divieto più totale Di non farlo proprio uscire Perché è per la prima volta In cui vediamo Gente completamente nuda Che cammina Rantolando E mangia topi Mangia pezzi di gente Senza dimenticare Che c'è la scena famosissima Della bambina Che si risveglia E ammazza la madre Da zombie nella cantina E poi il film in realtà È un trattato Trattato sociologico e politico Sugli Stati Uniti Di fine anni 60 Quindi la guerra in Vietnam Quindi il razzismo Che di lì a poco Erano state fatte Alcune leggi non razziste Da 4-5 anni Quelle che potevano andare Non più con il green book Che potevano andare più o meno ovunque Anche se non era vero Un finale delirante Un finale che ha distrutto Il mezzo mondo Per un film Che praticamente Al di là di una regia possente Al di là di registrazione Proprio ha detto Ora il cinema indipendente Si può fare così E soprattutto Ha spostato Il bilanciamento del cinema Diciamo così Sociale e politico Anche all'interno del genere Di qui in poi Non era più Era possibile Non dover per forza Fare il film Del cazzo Dell'orrore Col castello Questo cazzo Aveva portato Il cinema Or nella quotidianità Quindi era ambientato Nel 1968 Quando è uscito Quindi era ambientato lì E quindi dava questo senso Di Come Lo sverisbevo L'ora del lupo Questa innovazione Di non avere più castelli Di non avere più Chissà quali Strutture Dietro in realtà A una semplice casa Classica Coloniale Appunto americana E quindi portava L'orrore Nel mondo Moderno Senza assolutamente Dimenticarlo E poi ripeto È tutto un Andare Contro un personaggio All'altro Cioè si capisce Che il film In realtà parla di questo Dei rapporti Di personali Della diversità Che ci sono In un paese gigantesco Come l'America Come dico sempre io Quindi il redneck Che ragionano in un modo Il nero che ragionano in un altro La ragazzina in un'altra ancora E se si fossero messi Tutti d'accordo E avessero iniziato a ragionare In maniera più pulita Probabilmente sarebbero Sopravvissuti tutti In realtà Il litigio E la differenza Razziale Etnica Tutto il resto Porta alla divisione Anche all'interno della casa E quindi anche il personaggio nero Che comunque è quello più positivo In un certo senso Perché è quello meno razzista Però in realtà Ha dalla sua parte Un certo tipo di astio Che lo porta a fare Un paio di scelte Sbagliate All'interno del film Che avrebbero potuto salvare tutti Quindi è un film importantissimo Per decine di motivi Per avere sdoganato L'horror indipendente Prima di questo L'horror indipendente Era fatto Come Gordon Lewis Il gore Tipo proprio roba Blood fist Fatta con tre lire E basta Oppure dovevi per forza Utilizzare il sistema Del dottore pazzo E queste cose Quindi invece sdoganano Un horror modernissimo Perché come dice nel film Gli zombie siamo noi Cioè quindi nel momento in cui Capiamo che in realtà I buoni Sono i mangiatori I nostri Sono la nuova Diciamo evoluzione In realtà Che ci riporta A un periodo quasi cannibalico Quindi a un uomo quasi Preistorico Che però è in realtà La soluzione Per la distruzione del mondo Che stiamo avvenendo noi Naturalmente La critica più grossa Della guerra del Vietnam Al razzismo E il finale insomma Che poi Qualcuno vada a vedere Vada a vedere con lui Alla finestra L'unico che si salve Li sparano in fronte Li fa fuori un altro Mi sembra chiarificatore Anche per i titoli di testa Dopo Il tipo di coda Dopo dove viene trascinato E messo al fuoco Quindi è un film terribile Sotto tutti i punti di vista A livello proprio visivo Che all'epoca scatenò Una serie di polemiche enormi In America Lo volevano bandire Da tutte le parti Infatti lo fecero uscire Solo nei drive-in Dove però Fece un tale casino Un tale incasso Che a quel punto I cinema grossi dissero No ferma un po' Adesso si volevano leggere Anche noi E a quel punto Romero Che sembrava Poter avere vita facile Nel senso Dopo che incasso In film di genere Invece ha rotto i coglioni Tutti i suoi film A qualcuno E quindi Tranne l'End of the Dead Dove ha avuto per la misura Per una volta 25 mili dollari Non sapeva nemmeno lui Cosa fare Sì Con l'End of the Dead Che comunque era Cinque volte meno Di quella merda Fatta l'anno prima Da Snyder Per il remake terrificante Dell'Alba dei morti viventi Per il quale Snyder Si dovrebbe vergognare Andare a Montenero In ginocchio Coceci tutte le sere Accende le andele A un dio forse inesistente Ma che lo perdoni Prima della morte Per aver fatto Tale l'esa maestà Perché questa è crudeltà Al confronto Rebel Moon Parte 2 È un grande film Confronta come ha devastato L'opera di Romero Perché non si può devastare da lì Facendo fatto da lì E poi fare un disegno Delle elementari Non si può fare così Non esiste così Quindi la Notte dei morti viventi È il film Che ha dato il via Alla carriera di Romero Che è una carriera È più breve del mondo Nel senso che Poi poverino È campato poco Sfortunatamente È stata l'ultima Vera intervista video Di quel tipo Perché poi L'anno dopo è morto Io l'avevo beccato Che era appena guarito Da un male grosso Era magro Sembrava stesse meglio Invece sei mesi dopo Qualcosa di fulminante In tre mesi L'ha portato via Era strano Era un regista particolare Uno che si definiva Un socialista comunista Che nel 1997 Se ne andò dall'America Rinunciò alla cittadinanza americana E andò a vivere in Canada E non è un caso Che è il Land of the Dead Che è il suo film Fatto con i soldi Alla fine loro Dove andiamo? Andiamo in Canada Scappano in Canada E gli zombie Li lasciano andare Via dicendo Staranno cercando anche loro Un posto dove andare a vivere Quindi cattivi E quindi il bello di Romero È che ha fatto questa tetralogia La notte dei morti viventi L'alba dei morti viventi Che è noto da zombie Il giorno degli zombie La terra dei morti viventi Che ha una conclusione particolare È un proprio Parte da una cosa È sempre un seguito dell'altra E poi ha fatto altri due film Day of the Dead Che è il miglior documentario Mai fatto Sanno un cazzo Il project come farlo Lui l'ha fatto in maniera geniale E poi ha fatto Survival of the Dead Che è il western zombie Più bello dell'universo Di cui Walking Dead Ci ha rubato due o tre stagioni Praticamente Quelle piacciono tanto Il film di Romero Ha fatto flop E a me mi ha detto Che lui voleva fare Noir of the Dead Cioè fare un film Negli anni 40 Dove si vedeva una specie precoe Bellissimo Di come nasceva E poi voleva fare Space of the Dead Che era ambientato Mille anni dopo Dove c'era solo Queste stazioni spaziali Perché la terra era dominata Ormai dagli zombie E gli zombie arrivavano anche su Ma non ha avuto i soldi E non è mai riuscito A fare nessun altro film Purtroppo dopo Quindi per me Romero è un mito Uno dei miei registi preferiti Quando l'ho incontrato Non ero nemmeno emozionato Mi pareva di stampo A parlare con il mio babbo Sinceramente Una tale vicinanza nelle opere Che poi lui E finisco Prima dell'intervista Quando gli ho detto Sai io sono marxista Si è messa a ridere Siamo in due Cioè è stata una cosa È stata molto divertente Parlare con quest'uomo Con la moglie Anche essa gentissima E dopo l'intervista Ancora mi continuava a spiegare Quindi ero molto contento Del fatto Che quando si è finita l'intervista Ha fatto è durata troppo poco Parliamo un altro po' Cioè questo mi è Questo mi è piaciuto E sono stato bene E ho avuto la possibilità Di incontrare quest'uomo Che ripeto Ha inventato Più lui Che negli ultimi trent'anni I migliori registi al mondo Cioè quindi La realtà dei fatti E che la notte delle morti viventi È un film che tutti Dovrebbero conoscere a memoria Perché la costruzione D'intenzione Dell'orrore Tutto quello che era il cicocchiano Viene massacrato E cancellato da un Romero Che prende da quello Ma che scrive tutte nuove regole Completamente Sia per le tecniche Sia per la narrazione Sia per la scrittura Sia per l'idea Appunto sociale e politica Che entra di brutto Dentro l'orrore E quindi senza Romero Non vedremo mai un Carpenter Un Cronenberg E nessuno Che inserisce qualcosa all'interno Perché ha dato proprio la spinta A tutti gli di Ma se l'ha fatto lui Lo faccio anch'io Questa notte morti viventi Bianca e nero Fotografia mostruosa Calona somera fatta A un tre lire E un film che ripeto Mette l'angoscia addosso Che leva di Ulo Senza dimenticare Che racconta l'America Per quella che è Senza filtri E questo appunto L'ha portato a rinunciare Ai peggio contratti La metà oscura Per finire Aveva fatto un contratto Da milioni di dollari Con la Sony Per fare il film Con la Columbia Per fare il filmone Che era andato anche bene A metà produzione Gli hanno levato i soldi Levati dalle palle L'ha dovuto montare Con quello che gli è rimasto E l'universale Gli ha fatto un contratto Di sei anni Per il quale lo pagava Due milioni di dollari L'anno Per non lavorare Cioè se l'erano levato di Ulo E quindi lui Portava decine di sceneggiature Al mese Ho scritto questo Questo testo Che le bocciavano tutte Lo continuavano a pagare Pur di tenerlo fuori Poi arrivò Studio Canal Con Universal francese Che gli disse Studio Canal No Bruise era una sceneggiatura Facilissima Si fa a controllire E fece un altro Grandissimo film Sconosciuto a tutti Quelle col Bruise Che è geniale Per come raccontava L'inizio degli anni 2000 E poi di lì È riuscito a fare Altri 4-5 film A botta di culo E poi purtroppo è scomparso Uno dei più grandi artisti Al mondo C'ha 10 film sul gruppone La vera mancanza Di quest'epoca Ripeto perché Carpenter poteva aver fatto In questi 12 anni Che era fermo Almeno altri 5 film E non glieli fanno fare E Snyder è lì Che farebbe il Moon Party 3 Quando li dovrebbero Spregarire Le va alla licenza Le va proprio la macchina Bella la licenza Di registro Come la patente Ora te Per tre anni Vai a studiare E poi ritorni Perché è rotto Veramente il cazzo E che qui si riordinano tutti Army of the Dead Il remake di merda Di Snyder E nessuno conosca Zombie di Romero È una delle cose Che mi fa più incazzare Al mondo Allora dato che Di solito Quando si parla di animazione Parlo più io E dato che comunque Quando si parla di Romero È giusto far parlare Fede Perché ripeto È un po' Come me Cura Zawa C'è C'è dedicato una vita L'ha conosciuto Ci ha parlato Anche in privato Voglio chiedere Voglio fare una domanda a Vic Voglio fare una roba Un po' diversa Dato che comunque Te ti nutri anche Parecchio di serie tv Non solo Anche di fumetti Insomma cerchi di Allargare un po' I tuoi orizzonti Un po' tutto Secondo te Chi è che ha preso Di più da Romero Ma chi è anche Chi è anche Che ha cercato Di interpretare Romero male Cioè Chi è che non ha Capito Romero Perché secondo te Molte persone A molte persone Sfugge Il messaggio politico Sociale Che voleva inserire Romero Praticamente In tutti i suoi film E la maggior parte Dei registi O degli artisti Anche delle persone Che fanno videogiochi Magari si aggrappano più Al design dello zombie E a quello che fa Lo zombie Come mostro Come concetto Rispetto a quello che Romero voleva inserire Dentro gli zombie Io credo che Il discorso sia Che lo zombie È diventato Talmente iconico Proprio come creatura Che poi Si è spogliata Della sua valenza Perché poi Lo zombie alla fine Era un po' Una sorta di simbolo Del proletariato Ma non solo Questa è una Delle interpretazioni Che si poteva andare Perché poi Romero Quando Quando vide Il film di Snyder In un'intervista Lui disse Beh io prima Prima di far correre I miei zombie Gli insegno a leggere E a scrivere Cioè lui era Certo Sì nel senso che La Terra Mortiva È quello che fa Nel giorno degli zombie Nel giorno degli zombie Ma ancora di più Secondo me Nella Terra Mortiva Dove Land of the Dead Diventano una nuova specie Non sono più zombie Sono una specie Sono Amano Si aggregano come comunità Diventano una specie Dominante Ecco Qua voglio citare Uno che invece Secondo me Romero L'ha capito Alla grandissima Che è il manga I am a hero Di cui tra l'altro L'ho fatto con film È il mio manga preferito Allora l'ho visto Quello anch'io lo conosco Ho visto anche il film Che è fortissimo Bellissimo E lì secondo me C'è tanto amore per Romero Soprattutto per il fatto Che gli zombie Facevano quello Che facevano in vita A ripetizione Quindi se c'è l'impiegato C'è l'impiegato zombie Giapponese E va al lavoro Da zombie E parlano E parlano Quella voce distorta Ma parlano È veramente un gran manga Perché poi non sono zombie Sono infetti All'inizio sembrano zombie Diciamo Vabbè Comunque prego Tra l'altro lui Anazawa Ebbe le palle Di mettere quella scena Quelle vignette Che a me fecero Una paura fottuta Della donna infetta Che partorisce Un bambino infetto Che si vede proprio Una roba terrificante Nel cesso Di una stazione di servizio Tra l'altro Secondo me Quello che ha capito Di più Romero È stato Danny Boy Come in 8 giorni dopo Se proprio devo citare Un film contemporaneo Più o meno Comunque prima N. 2000 È stato uno di quelli Che l'ha capito di più Però poi dipende Perché ci sono stati Tantissimi altri Beh anche gli Armush È vero In chat Sì Gia Armush Con Don Dike Che è un film Su cui io ho sentito Scrivere le peggio cose E sono andato a guardare E ho detto Ma che cazzo Ho guardato È fantastico È un film geniale Porca puttana Romero diceva Che quello che il film Più bello di zombie Che avesse mai visto Dai suoi Era Shaun of the Dead Eh vabbè sì Allora È una parodia Però è vero Ma no però In realtà Lui lo defineva Una commedia con zombie Romero Perché la parodia Porta a estremizzare Invece lì La cosa bella è che È una commedia Che c'è lì zombie Però è una commedia All'inglese Una commedia nera Sì Però attenzione Non è una prodotta La spuntata Capito Sono loro che sono deficienti Perché quando vogliono andare al pub E infatti Non dimentichiamo Che se guardate Il bellissimo blu ray Di Shaun of the Dead C'è tutto lo speciale di loro Che c'è scritto Viaggio a Los Angeles Loro che partono Perché Romero li ha chiamati E ha detto Vi voglio nel film Land of the Dead E sono gli zombie Quelli legati Sì Lì sotto che sono Simon Pegg E Edward Wright Che sono andati lì Come dei bambini Perché c'è Edward Wright Quando incontra Romero Sembra non sono degno Si mette lì Quindi pensate Questo praticamente Al primo film Lo chiama Romero Li Fabiani sul set Per lui era questo Il miglior film Perché aveva perfettamente capito Come inserirlo Nella società moderna Nello sguardo Che non si accorge di nulla Basterebbe la scena Di Simon Pegg Che fa le solite cose Che esce attraverso la strada Va a prendere il cornetto Quando si alza con gli zombie Scivola sul sangue Apre la portella Il sangue Non si accorge E poi iniziano a tirare i dischi E per uno come me Che è fissato con la musica Quando tira i dischi Non scegli i dischi a caso Quando dice Stone Roses Il secondo album Quando io comprei il secondo album Ci rimasi di merda Il primo era meravigliore Il secondo Parevano le zeppie In dei poveri Però ci eravamo tutti Di nascosto Allora tira fuori Fa Stone Roses È il secondo No vabbè Quello ti ha E poi invece Ti dai restrezze Tiragli e li tiragli Cioè Era una cosa che Romero apprezzava Perché aveva Secondo lui Nel discorso che aveva fatto Ma l'ha detto anche a me Aveva aperto Alla nuova generazione Un tipo di zombie Che però era sociale E politico Che però poteva essere Comprensibile E dava una critica Inizia il film Che sono tutti sulle strisce Con il telefonino Già così Sembrano già zombie Non sono zombie Ma sembrano zombie Tra l'altro con Monster sotto Dei blu Che era Una cosa fantastica E secondo me Insomma Nei videogiochi Dipende Penso che quello più Romeriano in assoluto Sia ovviamente Resident Evil Romero avrebbe dovuto Il primo sì Lo conosco anch'io Romero avrebbe dovuto Dirigere il film Su Resident Evil Poi preferirono Paul W. Sanderson Che è sicuramente Un recista migliore Mi dicono Che fece un film Divertente Però Romero apprezzò Sì Ma era carino Era molto simpatico Sai cosa poi Se a Romero Gli tieni lo zombie Che va piano Pochi effetti al computer Alla fine Per quello che è E gli tieni l'idea Comunque sociale e politica Di una corporazione C'era C'è il capitalismo Che fa male Lo spionaggio Quindi gli va abbastanza bene Però chiaramente Io l'avremmo Avrei fatto da Romero Solo che le ha portato Una sceneggiatura Che mi dicono Durasse due ore e mezzo E che per la prima ora E un quarto Manco ci fossero Io l'ho letta Perché girava in rete Ed era una roba Che se l'avesse fatta Ciao proprio Lui girò Probabilmente Lui girò lo spot Per Resident Evil 2 In Giappone La notte dei morti viventi Era stranissimo Tutto sbollato Era sbollato Sì tutto con questi colori Poi aveva tenuto Proprio i costumi Dal videogioco Sì 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 Era molto carnevale Tra l'altro I zombie Che vedevamo In quello spot Erano esattamente Quelli di Dawn of the Dead Di zombie Con il trucco Dove c'era per la prima volta Il trucco di Tom Savini Perché nella notte dei morti viventi Non c'era ancora Tom Savini Infatti è un film Nettamente meno Violento visivamente Anche per motivi di costi Però Col bianco e nero Era riuscito a A realizzare alcune cose In maniera Un po' come aveva fatto Hitchcock con Compsych Usava la cioccolata Io citerei Per fare il sangue Ah sì è vero Citerei anche The Last of Us Perché comunque come È The Last of Us Ci ha preso Non sto parlando della serie necessariamente Ma sto parlando più che altro Dei due videogiochi Ci hanno preso tanto Soprattutto nella politica interna Alle città Alle fazioni A quello che succede poi nel secondo capitolo Che secondo me è molto più romeriano del primo Nei dialoghi di personaggi Quello che compiono i personaggi Il fatto di Oddio questo è l'eroe Ma col cazzo che è l'eroe Anzi Ti è sembrato l'eroe Ti ho fatto empatizzare con l'eroe Quando in realtà Non è eroe per un cazzo Ma questo È vero L'ho visto anche io Non ci ho mai giocato Ma Ele l'ha fatto tutto E quando ho visto che il più buono del primo diventa il cattivo E quello è molto romeriano È il concetto che ognuno può essere il cattivo della storia di qualcun altro Magari che nella tua storia si muore In un mondo poi così post-apocalittico C'è solo la sopravvivenza in un certo senso Ma poi io vorrei ricordare anche come si apre La notte dei morti viventi Che si apre con il fratello e una sorella Che vanno a trovare il padre Al cimitero Sì, addirittura Lui fa la battuta sui zombie Mi fa la battuta, scherzo Oh, sto venendo a prendere Ed effettivamente Chi è quello? Ah, sto venendo a prenderti per mangiarti il cervello Esattamente È esattamente quello Tra l'altro Una cosa che io adoro Dei film di Romero Che è quello che mi è sempre piaciuto Che poi alcuni hanno ripreso Come concetto È il fatto che Non ci sia bisogno di dirti Con precisione Cosa sia successo Si parla Di una sonda spaziale Il rientro Però Forse un virus Che vagava nello spazio Però il punto che può essere Come può non essere E non gliene frega un cazzo a nessuno In nessuno Degli film sui zombie Che comunque sono sei in tutto Di Romero Viene mai spiegato il perché Le persone Io Tu hai citato In zombie In zombie c'è qualcosa Però non Se no non ti spiega È una spiegazione Morale C'è una spiegazione Che ti dice Siamo talmente violenti Abbiamo fatto talmente tanti morti Nel mondo Con le guerre E tutto il resto Che l'inferno è pieno E adesso è che i morti C'è la terra Che non è una lettura vera È una lettura chiaramente cristiana Che non è quella di Romero Come si può Contrarsi il prete Però il prete ti dice È quello Siamo talmente cattivi Che l'inferno è pieno E quindi i morti camminano È il giorno del giudizio È il giorno del giudizio È il giorno degli zombie C'è solo quarto potere Altri 40 film al mondo Ma anche il giorno degli zombie Che tra l'altro È stato ripreso Nel terzo film di Resident Evil È uguale Infatti è il migliore Simpatico Si sono divertiti Ma è così Romero è così Cioè la morte Ne morti i venti Zombie Cioè nel senso I film poi sono stati Infatti 6.000 film con gli zombie Ma veramente 6.000 E alcuni che funzionano meglio Però veramente Quando hanno utilizzato Come in 28 giorni dopo Che è un grandissimo film L'infetto È però il sistema romeriano Dei militari Che prende un po' Dal giorno degli zombie Un po' da zombie Quindi l'idea politica La lascia E dà anche una bella Stoccata iniziale In realtà Sì agli animalisti Ma attenzione a quelle fate Perché potete fare peggio E meglio A seconda di quello che fate Cioè il mondo È quasi avanti Come dire Sì è vero Brutti gli allenamenti intensivi Leviamoli di culo Ma anche Tirare su tutto quel toffo E quella soia Distrugge l'Amazzonia Cioè quindi c'è sempre Un discorso molto intelligente L'avvocato anche L'avvocato è stato E quindi 28 giorni dopo Fa un discorso comunque sociale E poi fai l'infetto Cioè una goccia Vai di fuori E ti piglia la rabbia E quindi giustifica Le accorse a tutti Romero ha detto Che gli avrebbe insegnato A leggere e scrivere Come ha fatto Per il semplice fatto Che non è possibile Insegnarli più a correre Perché questi Sono morti Questi sono morti E quindi Ci spezzano Quando noi vediamo Nella notte dei morti viventi Il morto di giornata Per esempio Quello morto da un'ora Cammina molto più velocemente Cammina lento Ma più velocemente È in disfascimento Quando vedi il morto Che è già mezzo spappolato Va anche su quello Che viene schiacciato Che va su un gomito Solo perché è tutto rotto Non è che Ma poi c'è Rigor Mortis No ma poi c'è La bellezza è che Se nel filmaccio di Snyder Sdraiano uno zombie L'arrotano Lo zombie casca E continua a 250 l'ora Non è così Cioè E la cosa bella dello zombie È che non è lui Il cattivo Il problema è Per esempio Della notte morti viventi È sempre il solito Il problema Romero racconta Sempre la solita storia Un gruppo di persone Che si trovano rinchiuse In un posto determinato Ha salito dagli zombie E vediamo cosa succede Nel primo È una casa Coloniale E non a caso Dove ci tiravano su Praticamente Gli schiavi E il cotone Il secondo Non è a caso Che è un supermercato Perché era scoppiato Nel fine anni 70 Questo moderno enorme Di questa fase 15 C'è un mega centro commerciale Dove incredibilmente Vanno loro E gli zombie Ci tornano Perché si ricordano Del centro commerciale Si provano i cappelli E dove arrivano anche I cattivi Alla fine tutti vogliono Questo centro commerciale E la scena dove c'è I cattivi I buoni I zombie I manichini Non capisci più Chi cazzo so Manichini o gli zombie È già nel terzo E ha messi tutti sotto terra In una base Anche lì rinchiusa Perché doveva sondare Quando il mondo era finito Nel quarto Praticamente L'ha rinchiusi tutti In un palazzo Con gli zombie fuori Quindi è sempre Una situazione Da lì Io sono leggenda Solo che siccome Romero È un genio È sempre stato un genio E sempre sarà un genio Quando gli dissi Nell'intervista L'ho fatto Adesso è uno dei più grandi Geni del XX secolo E lui ha fatto Questo lo dici te E io ho fatto E chi te lo deve di Tanto Niente C'è che cazzo Cazzo me ne frega di bella E pensano quegli altri Facciano cazzi loro E si guardino tranquillamente Michael Bay Col Colulule Cioè a me mi importa Una sega di loro Tanto quelli che dicono Che sono bravi Prima o poi diranno Che è una merda Perché prima o poi Cambierà il pubblico E quando cambia il pubblico Cambia la critica Questo ormai l'ho capito 50 anni Quello che faceva All'epoca Piano piano diventa Sempre più merda O diventa sempre più bello E Romero ha fatto Tutto così Ma i suoi film Sono questo I suoi film Sono semplicemente Una discussione Fra umani Essere umani Rinchiusi in un posto E vince sempre La violenza E la sovraffazione E poi alla fine Rimangono sempre I personaggi neri Vivi Oppure gli sparano In testa Adirittura Nella terra dei morti Viventi Il vero buono Della storia È Big Daddy Il benzinaio nero Che è uno zombie Che è quello Il cattivo È Danny Soper Che gli ha fatto dire Quattro frasi identiche A Bush Precise Quindi si incazzarono Come bestia Io mi ricordo anche Di Diary of the Dead C'è una scena Che è clamorosa Che per me È un caldo assoluto Che è la scena Del pagliaccio Quando Che gli tira La festa del bambino Il padre Prende il naso Del pagliaccio E gli rimane in mano Che è il naso vero E lui ci rimane in mano E lo zombie Un secondo dopo Lo attacca Quello è un altro Perché poi lui cosa fa Finisce la sua tetralogia E cerca di iniziare un'altra Che è completamente differente Deveva farti quattro Ma è andata Non è andata Però Diary of the Dead È bellissimo Perché a parte Che è un mockumentary Geniale Perché è un mockumentary Tutti gli mockumentary Fanno una cosa Che io capisco Cioè tolgono le musiche Perché dicono Deve sembrare originale Invece no C'è una voce Che dice Sono quella che vedete Dentro al documentario Dice che gli effetti speciali Le musiche Il montaggio L'ho montato io L'ho montato io Per mettervi un po' di paura Ho fatto un film Io voglio denunciare Quello che è successo Lo voglio anche spaventarmi Perché è un film È tutto credibile È tutto credibile E basta È il colpo di genio E poi di lì Non è che siccome è andato bene Ha fatto un altro mockumentary Cioè nel momento in cui Si incontrano i militari Un secondo È una scena di due minuti e mezzo Montano i militari Gli rubano la roba Sono anche degli stronzi E se ne vanno Quando parte Survival of the Dead Inizia con Diary of the Dead Questa scena Loro che se ne vanno E poi segue i militari Senza utilizzare Lo sai Fede Cosa mi hai ricordato Questo stile di sequel Da una scena minuscola Quello che faceva Oshii con la Kerberos saga Cioè che Prende un personaggio Che ti hai visto E poi Ti si fa Crea tutto un altro film È uno spin off Non è un sequel Esatto Il suo mondo è uno È di tutti i suoi film Tranne quelli tratti da King Chiaramente o Creepshow Che sono roba Ma i suoi film Sono fatti in un mondo unico Anche quando fece La stagione della strega E fa E prima che arrivino gli zombie Comunque Gli zombie nel mio mondo ci sono Perché gli zombie Non possono non esistere Perché vi governano Tutti i giorni A me disse così E io rimasi Grazie Io lo so E lui è proprio Non c'è possibilità di Cioè con Romero Poi non c'è retorica È questo che colpisce Non fa quei film Dove arriva uno E fa il discorzone Dove ti spiega Che sono razzisti È la messa in scena I dialoghi sono talmente curati Perché lui se lo scriveva Tutti i film Che non Non c'è mai la possibilità Di rimanere Ripeto Land of the dead È qualcosa di È una chiusura Di un quarto capitolo Che non nessuno voleva Cioè tutti i buoni Praticamente schiantano Un casino incredibile E ripeto Il fatto che Sia passato da Nel primo C'è la lotta Fra tutti i tipi di cittadini Nel secondo C'è la lotta Diciamo fra I militari buoni I militari cattivi E la scienziata E la scienza Nel terzo La scienza è quasi eliminata Ci sono semplicemente I militari E i dottori Che continuano a cercare Appunto di capire Con la scienza Cosa mi va avanti Ma non ce la fanno Nemmeno più Nemmeno i dottori Che diventano pazzi Con quel dottore lì E nel quarto In realtà I cattivi Sono i capitalisti Perché questi È 40 anni Che vivono L'ora è tranquillo È dalle anni 7 E lui dice Anni e decine di anni Che vivono In questa cazzo di torre Dove fanno la vita Meglio di prima A sedia Fuma sigari E mentre i proletari Poveracci Vanno a rischiare la vita A mezzo agli zombie Allora a un certo punto Sapana Alla fine Si alleano Senza volere Non è che si parlano O si alleano Perché vogliono È così Leguziano Quando muore Prende la coscienza E va a cercare Denisovra Io ti faccio fuori Perché Chiaramente nel film C'è questa zona Che tutti vorrebbero raggiungere Poi poveracci Stanno fuori E ancora più Poveri Ancora più fuori Ci sono pochi Sembra Di essere Israele e Gaza Non c'è Beh sì È proprio una cosa Lui È così E quando si dice Non guardare il politico Nel cinema Vuol dire non guardare il cinema Beh ma Io ricordo la scena Dei fiori del cielo I fuori d'artificio E loro La prima volta ti fa vedere Che spagano i fuori d'artificio La terza volta La quarta La scena più bella del film Per me Sono due in realtà Quelle che preferisco Che è quella degli zombie Che l'ultima volta In cui usano i fuori d'artificio Guardano i fuori d'artificio Dopo dieci secondi Li vedi che si girano E soprattutto Si sono evoluti Perché quando loro Cercano di scappare Gli zombie si rendono conto Che loro possono andare sott'acqua Sono morti E quella scena che escono Che lui ha citato Francis Ford Coppola È splendida L'Apocalypse Now È incredibile E in più Ripeto Quello è un film Cattivissimo Perché noi ci dobbiamo Immedesimare Con dei mercenari Poveracci Oppure con gli zombie Perché tutti gli altri Sono giusta carne morta Cioè al cinema Eravamo in dodici Ma quando loro entrano Iniziano a ammazzare tutti Eravamo tutti esaltati Cioè non è come era successo Che ne so Nel giorno degli zombie Quando Michelito Li fa in track E va in paranoia Perché c'era anche Te ne frega un cazzo Perché tanto quegli altri Sono su Dead Reconing Quelli che ti interessano E gli altri Fateli fuori tutti Queste merde E ci stai bene Perché ripeto Il finale con loro Che stanno andando via Col Dead Reconing Che potrebbero ammazzarli tutti Gli zombie Con tre missili In realtà Quando li guarda col binocolo E fa Cosa facciamo? Lasciali andare a cercare una casa Tanto è quello che faremo anche noi In Canada Non è un caso Quindi è proprio Una idea Di cinema Che è andata a scomparire Perché adesso Se ti provi a fare una cosa del genere Ti tacciano di essere un coglione Cioè io lo vedo Con per esempio Un regista come Garland Che continuano ad andare A attaccare Civil War Che è un film assolutamente politico Sì ma è un film sulla società E continuano a non capire Che bisogna parlare Di questi film Attraverso il genere L'hanno portato a smettere L'hanno portato a dire Il cervello La gente attendeva Lui intendeva più computer In quel periodo Perché si parla del 2006 2004 O 2003 Una cosa del genere Che arrivava Internet arrivava pesantemente E lui aveva Diceva Poi me lo disse anche a me Che comunque Nonostante Lui non fosse Non per il progresso Sia mai Ma come me Non era per l'avanzamento tecnologico Ad ogni costo Se questo porta in realtà A cose negative L'avanzamento tecnologico Va usato per gli esseri umani E diventa progressista Se diventa reazionario È un problema Quindi se te crei Una cosa Un'intelligenza artificiale Che salva i lavoratori Che montano su i ponteggi Salva la gente Perché riesce a tenere Le fabbriche meglio Evita di far cascare Le navi e i treni Bene Ma se questa qui Invece la metti Su un missile Per deflagrare la gente Non hai fatto un avanzamento Hai fatto un avanzamento tecnologico Ma non hai fatto niente Di progressista Le armi esistono Da quando c'è i pietroni Quindi era un discorso Molto particolare Quella cosa lì Era qualsiasi cosa Mi disse Cioè il fuoco d'artificio Era qualsiasi cosa Ti distrai dalla realtà Del fatto che te Sei un cazzo di numero Un numero Di distrazione di massa Sei come diceva Ciampi Andare camminare e lavorare Questa è la tua vita Fine dei lavori Che poi è quello che fanno Quelle fasciali Che fanno gli zombie Poi nei film di Romero In un certo senso Ma la cosa che hai detto tu Di Amairo è quello È quella roba lì È quella roba lì Perché loro ripetevano Comunque i giapponesi Sono riusciti alla grande Io ho visto tanti film Di serie zero Giapponesi Anche il grande Kitamura Amava Romerone Si vede Perché comunque Quando c'è una voglia Di esprimersi L'Oriente La prende meglio Questa cosa Perché in Oriente In realtà Come dite bene voi In realtà Non c'è questa chiusura Verso il cinema politico Anche un film come Trento Buzan Che forse esteticamente È più vicino a Snyder Che a Romero È tutto veloce Però in realtà A livello di storia A livello di quello Che mette in scena È più vicino a Romero Perché descrive Vari personaggi E tutti i personaggi Anche lì Dovrebbero collaborare Invece c'è il classico Capitalista merda Che farà crollare tutto Ancora di più Se è All Station Secondo me Se è All Station Ancora di più Perché l'animazione Secondo me Mi dà ancora una mano Superiore Nel senso Sono più lenti Però proprio Io mi sono fissato Con il semila Io ho le zombie girls Contro fan cast and girls Ho tutti i girls Contro girls Mi fanno sta bene Perché in realtà Poi anche in film Come Machine Girl C'è Romero dentro C'è sempre una critica Al bullismo Ce l'hanno questa cosa Anche nelle cose più leggere Anche se guardi Un'animazione più leggera È giapponese Quando è ben fatta Chiaramente leggera Ma ben fatta Ha sempre Siccome probabilmente Ha una vita molto schiacciante Molto sofferente Allora nell'arte Cercano di aprirsi Il più possibile In questo senso E cercare di mostrare Quello che in Giappone Non si vuole mostrare A livello pratico Per la strada Questa è una mia idea E noi in Italia Invece abbiamo avuto Dei grandi risultati Per esempio De Neste È un film romerianissimo Bellissimo Oh è a De Neste Il cazzo citato Il grande film De Misitsky A The End È uno dei film Più politici E più romeriani mai fatti Fatto con 200 mila euro Nemmeno E' un fatto di lusso Lui come disse Sono infetti Non sono zombie Ma è romeriano Il film Daniele lo dice sempre Perché corrono Ma è Romero L'ispirazione Perché l'ispirazione È il capitalista Che è una merda Che alla fine Conta più un litro di latte Che tutto Esatto Alla fine lui Con l'attuccio Cioè Oltre al fatto Che poi sono tante cose Che gli hanno cambiato Poverino Alcune perché Erano troppo cattive Il finale Fa il vero Fa un po' Il Si riferisce molto Il finale Non so se lo posso dire Era La notte dei morti viventi Poi l'ha dovuto cambiare L'ha proprio dovuto cambiare Era sì Molto quello che ha tenuto Era simile Simile però Era proprio quello Sta di fatto che Romero per me Raggiunge dei livelli Proprio Che non vengono mai consentiti Agli altri registi Proprio perché Non ne hanno il talento Ne hanno la forza Cioè non è possibile Non sono tutti Cioè il bello del cinema È che hai tanti mestieranti Hai tanta gente di talento Hai tanta gente brava A fare il cinema Ma i veri geni Geni totali Ma se arriviamo a 100 E poi in 100 anni di storia È tantissimo Perché poi È poca la storia del cinema Sono 120 anni Quindi Massimo forse 50 geni totali Romero è vicino a Bergman È vicino a Orson Welles È vicino a Carpenter È vicino a Tourneau È vicino a Murnau È vicino a Fritz Lang È vicino a Méliès Carpenter Romero Questa gente che viene sempre considerata Sta nerdina Vic che hanno fatto Halloween Ha fatto Halloween Ha fatto solo Come se avessero fatto solo quello No ma poi ha fatto solo 1997 È la cosa È il signore del male È il signore del male È il signore della follia Cioè Romero Non ha fatto solo quello Cioè The Crisis La città verrà distrutta all'alto Ma ma che bello È 8 giorni dopo Sì è uguale Che ha mescolato con zombie Cioè praticamente Lui inventa di tutto Il film negli anni Fini anni 70 Che ha inventato I classici militari Che arrivano con la cittadina È il Romero un'altra volta Che non gli davano i soldi E non lo facevano sci Perché quello è un film teorico O Romero non gliene fregava un cazzo Dice già Il solito film Non c'è un movimento di macchina Perché lui voleva fare un film Fatto esclusivamente Di fotografie e montaggio Senza protagonisti Che non esistono Perché è coralissimo Scambiano Quindi Hanno fatto il remake E hanno fatto un film Bellino Ma che non c'entra un cazzo Con la città Perché doveva essere No perché non diventano mostri Cioè diventano assassini E basta per un gas militare Sono pazzi Pazzi per un gas militare Questa follia qui È dovuto arrivare a dare gente A belli soldi Se no non lo finiva il film È sempre andata avanti così La metà oscura Le hanno levato i soldi Perché questo è uno Che non ci parlavi Giustamente Cioè io faccio il film Che cazzo mi pare a me Te ti devi levare Infatti quando lavorò Con l'Universal Che gli voleva far fare Altri due film Perché comunque Quello costò 20 milioni Mi incassò un centinaio Quindi gli dissero Bene bene vieni Lui disse no Siccome gli hanno rotto Il cazzo del 20% Del film non è mio Di Land of the Dead Perché me l'avete fatto Ritoccare più scene d'azione Dove essere più lente Tutto il resto Non ci lavoro più con voi Vaffanculo Ma chi lo fa Ma chi lo fa È quello che ti dico Se James Gunn Avesse un minimo Del cuore e del coraggio Del grande Romero Sarebbe un Romero Così io sono Un leccaulo delle grandi Mega multinazionali Che è un grandissimo regista Perché c'è una tecnica E' un'idea spaventosa Ma io lo rivolgo Con 5 milioni A fare il film Che cazzo vuole Uccidere tutti Ma Superman Se lo può mettere Anche nel culo L'hanno fatti 140 Tanto come quello di Donner Non li verranno mai a nessuno Speriamo di no Dai Vediamo Vediamo Il film È Gunn Non può sbagliare un film Ti spiego Però quello che ti dico è Se si rinizia con supereroi E ci rinizia una becca Non mi levo più dalle palle No 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 Che era difficile Posso dire una roba Fede sul film di Superman Che ci tengo parecchio A Superman Legacy Perché anche io Mi sono rotto il cazzo Delle supereroi Adesso si chiama Superman Ah si chiama Superman Sì sì Mi hanno tolto in Legacy Me ne saranno garbati 15 20 Il problema è un altro Che secondo me Superman A parte quello di Donner Appunto Potrebbe dare un bel segnale Cioè di fare un film Ogni tanto Scritto bene Girato bene Una volta ogni due anni Una volta ogni tre anni Dove si fa un bel film Confezionato bene Su un personaggio Che secondo me Ha bisogno di un rilancio Perché è una figura Molto positiva È una figura Che non è mai stata Secondo me raffigurata A parte 30 anni fa Forse anche di più Bene E che tutte le volte Ci fanno 50 Minchia Ci fanno due Eh sì sì Ci fanno due coglioni così Con questo Superman Io non sono un super uomo Io non sono nemmeno un dio Che due coglioni L'unico che l'ha fatto E non se lo ricorda nessuno Non è un film riuscitissimo Brian Singer Con il Superman Vero Sono d'accordissimo Superman Returns L'aveva fatto sentire Bellissimo Nemmeno Nemmeno quasi maschio Cioè era quasi anche gender Cioè come se potesse amare il mondo Inconsensizionamente Anche un uomo Anche sessualmente Cioè era un film molto particolare Ma poi la scena del proiettine Nell'occhio vale 100 scene di Batman vs Superman Dai ragazzi La scena del pianoforte Ma lì si riparla Mamma mia Cioè lì si riparla di Zack Distruggo tutto quello che tocco Snyder Ha fatto l'uomo d'acciaio Più scemo del mondo Che invece li piglia a Zord Per la testa E tirarlo in mezzo al deserto Deflaga Ma poi perché L'ha riempito di cazzo Più scemo di lui Ha salvato tutto il mondo Superman e Batman E talmente scemo Che ci sono l'eroe più forte del mondo Uccidiamolo Ma Fede ma secondo me Perché ha riempito di cazzo Ma non è un super cattivo Cazzata Remita Mamma mia che hai scritto Che cazzata No no Una roba su Superman Che ha detto Una cazzata Cioè che è un personaggio Di Superman È anacronistico E stantio Ma che cazzo vuol dire Ma se lo prende in mano Se lo scrivi in maniera diversa Non è ottimo Niente è stantio Se non è stantio Anche la notte dei morti 20 Se lo fai parlare Come nell'anni 30 Che fa Adesso sparerò questo raggio Cioè Devi spiegare a gente Che cos'è un raggio L'ase Perché la gente non lo sapeva Cioè Ma si è evoluto anche fumettisticamente Io spero che Gunn faccia il suo lavoro Ma come dico sempre Per essere veramente Un nuovo Romero E non solo un grande regista di talento Che fa dei bellissimi film Ma capolavori Ancora Il capolavoro vero del cinema Quello che rimane nella storia Non l'ha fatto Gunn Ha fatto dei grandissimi film Ma per diventare Romero Devi prendere pochi soldi Farti i cazzi tu E tira fuori un film Che la gente non vuol vedere Quelli sono i capolavori Ma secondo me Superman non lo vogliono vedere Leggendo i commenti Che volevano tutti i ricavi Certuno che è un bisteccone uguale Ma chi vuole Superman è un Superman è quello però ragazzi Come Peter Parker Cioè Mi ha fatto il fisio secco Ci arrivo io col buzzo Superman Si vede la salva a tutto Ma preferisco mangiare la rostinciana Ma che senso ha Se no diventa mettorre dell'altro Che ingrassa a birra Che non si è mai visto Cioè che il film prima Mi fa Io posso bere birra per 15 anni E non ingrasso E il film dopo è ingrassata a panini E in tre anni E grasso da imbalire Sono di buzzo Hanno risparmiato sulla faccia Perché vedete Chris Hesworth Non voleva averci le gote O sì Quindi solo la panza È l'unico uomo Thor che ingrassa di buzzo Tutto il resto Non li ingrassa nel fisio E è veramente E lì Cioè quando però Arriva Rangers Endgame Lì Gli amanti dei fumetti Dovano fare una rivolta E dirgli Ma voi non ci potete prendere Per il culo tutti Con questo duce Col culo sotto la ghina Avete rotto i coglioni È talmente idiota Che non ha capito Che ti ama tutto il mondo E ti venera come un dios E raddoppi il mangià Rilascia la stessa gente E raddoppi le risorse Dove vai vai fanno Thanos Ti regalano i figlioli Figlioli Gattopardi Ti danno la terra È tua Presidente a vita Questo invece ha deciso Per essere simpati E poi per diventare Shrek In Infinity War Perché è Shrek all'inizio Che si fa È vegano Tra l'altro Non so se avete fatto caso Perché è vegano Non è un caso E arriva lì E poi arriva Torre E un'altra volta Si può salvare il mondo Tu mi taglia la testa È un coglione E nel film prima L'ha lisciato Con Affari Sic Che lo pigliavo anch'io Perché va da solo Quando uno È lì che ci sono incazzato Ma sono passati più di dieci anni Cioè hanno intimato a fare Sempre peggio Sempre peggio Hanno sempre incassato di più 5-6 anni sono passati Già Non è così mai di più No, no, no Nel 2019 Cinque anni Cosa? In finiti fava? No, no Endgame Endgame Infinity fava di Bandera L'anno prima Sei anni fa Insomma In sei anni Ne sono usciti 15 l'anno Tutte merde Questo sta tranne Suicide Squad Fatto da Gunn Che levava veramente di uno Quindi ripeto Per me anche qui Trovo molto più romeriano Anche nei fumetti Chi che è se livello Cioè non so come farvi capire Scott Pilgrim Versus The World Lo trovo infatti Lo trovo un film Che ha un senso politico Ha una forza Che non vuol dire Metterci gli zomi E diventare un discorso serio È quello che dico Ci sono registi Che resteranno nella storia Per me Shaun of the Dead È un capolavoro Della commedia horror E quindi l'ha fatto Un film quasi a livello Di quarto potere Non c'è E l'unico modo Che avrà per farlo È dire Faccio il cazzo Che mi pare E faccio davvero Qualcosa che faccia Ci vorrà un po' di tempo Mi sa Secondo me Con Slyther Era sulla buona strada Perché Slyther Era sulla buona strada Infatti è romeriano Ma poi cos'è successo Gli hanno fatto scrivere L'alba dei morti Dementi Di Snyder L'ha scritto lui Ma è scattato le palle Però è anche vero Che una sceneggiatura Non è quello Metti in scena Magari lui In sceneggiatura C'ha scritto E questi No ma quello è chiaro Prendi i soldi E fai quello che devi fare Io sto solo dicendo Che un regista Ha di tale talento Che giustamente La voglia a creazione di altri Perché Superman Non l'ha inventato lui Quindi mi fa piacere Anzi vede è diverso Ma io gradirei Che lui lavorasse A una sua idea originale Così da far tirare fuori Un certo tipo di cinema Originale Semplice A me è come Jordan Peele Che mi piace Perché fa i suoi film Eggers Ora che va A pestare la merda Con uno sferato Già c'ho paura Perché Non è Eggers quello Scusami Eggers Che ho detto Ora va a pestare la merda Con uno sferato Ah ma stava Passa ancora di Peele No 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 Peele è il kitano americano Praticamente Perché fa i video I video comici E poi fa i film Super seri Peele è furbo Perché Peele Produce i remake Tipo Candyman Ma se ne alza di morto Le mani Da girare Ti vado nel culo I pezzi li fanno Nell'altro Io ci piglio soldi Questa è un po' la logica Quindi io trovo tanto Tanto Ashter Io in bua paura Ho trovato tanto L'idea del cinema di Romero Ma tanta Ma tra l'altro La questione di Anche in povere creature Io ho trovato Romero Ma tantissimo La questione Della 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 L'albero morto e viventi Snyder Che c'è scritto La sceneggiatura Gun Da quello che ricordo È che sostanzialmente La universe ha detto Fai Slyther Però Ci scrivi La sceneggiatura E lui è Beh quello si sa Devi andare avanti Comunque il problema È sempre la messa in scena Perché anche se corrono Puoi cercare di limitare i danni Ma non puoi fare una scena Come quella iniziale Che lei scappa In macchina Col marito dietro Che la rincorre così Che va proprio Che sembra Ben Nilla Ma ha una velocità Che non ci andava da vivo Cioè Che è un centometrista E in tutta Vediamo dall'alto Los Angeles distrutta Cioè la città distrutta Con ambulanze E si piantano Giove piglia E scoppiano E questo vi gira Quello che rincorre lei Perché c'è uno Che esce Di asa Con la pistaglina Tranquillo Beve il caffeino E si mette a pigliare il giornale Ma questo Primo Chi cazzo Gli ha tirato il giornale Cioè Chi è il bimbetto Un bicicletta Che ha tirato il giornale Mentre gli zombie Sì Ma questo non si è accorto Di un cazzo Ma veramente Questo esce Prende il giornale E infatti Gira come Gioino Come Super Mario E lì Crolla tutto il mondo Perché Le ho detto Datele un pettolino Fateli ore E questi sono contenti Cioè questi zombie Vi li stiocchi tutti Dentro dello stadio di Livorno Vi fai girare A palla di fogo Questi sono contenti Questi sono tranquilli Gli dai il numerino Tipo Criceti Tipo Criceti Tipo Cricetone Li metti soltanto questi Non hanno idea Perché sono talmente stolti Che a differenza Di quelli di Romero Che tengono una reazione A quello che fanno Questi Hai pregato un cazzo Questi Sembra che tutti Nella vita Fossero Olimpionici Perché che cazzo Vanno tutti A una tale velocità Che non è possibile Ma che ha più forze Essere morti Non è possibile Il problema di quel film È che esiste No è che se si fosse Con altri zombie che corrono C'era già zoom La gente sarebbe Stata L'avrei detto È una merda appunto Il problema È stato spacciarlo Come remake del film Perché non lo è Non è che spacciarlo Hai preso quella storia lì Ti occhi la gente Sì hai preso quella storia Però di fatto Non c'entra No di fatto È un altro film Non c'entra una sega Perché a me Romero mi disse Che Snyder era di morto Un merdone Perché un l'aveva Nemmeno invitato sul set Nemmeno aveva fatto Un corpo di telefono Per dirgli Sto girando il tuo film Perché lui considerava Romero come Carter E tutti questi registri E Terry Gilliam Il male del cinema Questo non deve lavorare Lui ha detto Che con Watchmen Ce l'ha salvato Da tutti Terry Gilliam Del mondo Ce l'ha fatto Terry Gilliam E l'hai fatto E impedito È proprio Il momento in cui Il mondo crolla E fai Cazzo Hanno preso Un regista di sinistra Per fare Un film di Un fumetto Di ultrasinistra Anarchico Antifascista E poi arriva Snyder Che ci mettono Due supereroi Che a Skandar Barry Stempiano gente E tagliano la gola Col sorriso Si hai distrutto Tutto il lavoro Del povero Moore Che si sente giustamente Offeso Bene Ragazzi Romero non è che si sentiva Offeso Romero ha detto L'industria americana È una merda Io me ne vado A fanculo Questo ha detto Quindi a me Buongiorno Buongiorno E presumo che questo Lo dicesse anche Inghimia così Al ceo Dell'universale Ma sì Ma di casa E qui Perché non interessava Avere la villa Lui viveva in una bella casa Di 80 metri quadri Mi pare a Toronto A Vancouver Me l'ha detto Una bella casettina Non è che voleva 20 Ferrari E questa è la differenza Tra gli artisti E quelli Come ho detto Di James Gunn Che ha troppo voglia di soldi Mi ha visti troppi Ma prima richiede Scusa alla Disney Romero Si staccava tutte e due le gambe Questa è la realtà Dei fatti Questi sono gente Che sono dei grandi registi Ma che diventano Dei businessmen Quando diventi un businessman Diventi come Lucas Non sei più buono A Gerard Filme Bene ragazzi Vi auguro la buonanotte Grazie mille Scusate ho parlato troppo Ma Romero No no ma io ti ho lasciato fa Perché quando c'è Romero Ti lascio fa Ce l'ho tatuato sulla palla destra Io non voglio vedere nessuno Ciao 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 ragazzi Ciao